Ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si è regolarizzato sulla rete autostradale regionale dopo i disagi delle prime ore del mattino. In Fipili per lavori restano 3 km di coda in direzione Firenze tra Empoli e Montelupo e coda di 1 km con tendenza all'aumento in carreggiata opposta tra Ginestra e Montelupo. Ricordiamo che questa fase dei lavori tra Montelupo ed Empoli Est prosegue fino al 30 maggio. È prevista in questa fase il doppio senso di marcia nella carreggiata verso Firenze e la chiusura della carreggiata in direzione Mari. Inoltre lo svincolo di Montelupo resta chiuso in direzione Mari sia in ingresso che in uscita verso Firenze e solo in ingresso Fipili. Prima di salutarci per il trasporto ferroviario informiamo che la biglietteria di Montecatini Terme oggi, domani e dopodomani resta chiusa per l'intera giornata. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!